Bentornati all'appuntamento con l'informazione di atvreport.it. Drammatico incidente sul lavoro questo pomeriggio in località Molino Vitelli nell'Umbertidese, vittima un 72enne di San Giustino che nel luogo stava realizzando un pozzo. Ancora furti ad Umbertide sono entrati la notte scorsa in una tabaccheria rubando sigarette e tabacco. L'auto con la quale si sono allontanati anch'essa rubata è stata intercettata dalla squadra a volante della polizia. I ladri si sono dati alla fuga mentre il bottino è stato recuperato. E giovedì si riunisce il consiglio comunale di Città di Castello tra i punti all'ordine del giorno anche la realizzazione del nuovo museo di arte contemporanea a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. Queste e tante altre notizie le trovate come sempre nel nostro sito internet www.atvreport.it